Non sempre è semplice essere donna e tecnico, perché a me è capitato e penso che mi capiterà ancora di andare in cantiere ed essere vista con un po' di diffidenza e poi certo vieni, diciamo così, ti presenti come direttore dei lavori e quindi ti guardano con ancora più diffidenza perché effettivamente magari sono più abituati gli operai o il capocantiere a avere a che fare con degli uomini, però dimostrando, questa è la mia esperienza, dimostrando di essere competente e di essere anche così disposta a andare a vedere, non lo so, magari un locale non pulito oppure di salire su una scala per vedere gli impianti o comunque cosa c'è all'interno di un controsoffitto, questo in un certo senso ti riscatta. E tante volte può anche succedere che quando tu dici, come è successo una volta anche a me, qualcuno ti cerca al telefono e chiedono dell'ingegnere Ramero e tu rispondi e sentono la voce di una donna e sta un attimo in silenzio per dire ma è una donna e come a volte succede anche questa cosa fa.